I leak di Pokémon Diamante Lucente e Perlo Splendente continuano con il leaker Pokémasta che sta continuando a rivelare contenuti dei giochi, come la presenza di due mostriciattoli. Durante il postgame l'allenatore protagonista potrà incontrare due NPC particolari che gli consegneranno due Pokémon speciali. Le creature di cui si sta parlando sono i misteriosi Girachi e Mew, che appariranno quindi anche in Pokémon Diamante Lucente e Perlo Splendente, come rivelato dagli ultimi leak. I due mostriciattoli potranno essere ottenuti in un modo particolare, secondo quello che è stato rivelato finora. Infatti la copia di NPC richiederà dei requisiti per poter ritirare i Pokémon, ovvero la presenza di dati di gioco sulla propria Nintendo Switch. Girachi sarà ottenibile se sulla console sono presenti dei dati di salvataggio di Pokémon Spada e Scudo, mentre Mew potrà essere aggiunto alla propria squadra se sia in possesso di dati di Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. Oltre a queste novità, su Twitter l'autore Matt pubblica un post contenente queste due foto. Le immagini mostrano tutti gli oggetti che saranno presenti in Pokémon Diamante Lucente e Perlo Splendente. E da qui possiamo dedurre molteplici cose. La prima è che non esisteranno più gli sprite degli oggetti, ma bensì saranno sostituiti dagli artwork del Global Link. Possiamo notare che saranno presenti tutti gli oggetti eventi presenti negli originali, quindi anche la scheda Sochi e la Gracidea, che confermano gli eventi di Darkrai e Shaming. Vediamo poi che sono presenti i tappi d'oro e d'argento e che quindi confermano la presenza degli EV, ossia i valori individuali. Le varie proteine e rispettive piume che confermano la presenza delle EV. Le varie mente, quindi sarà possibile modificare la natura del proprio Pokémon come accadeva in Spada e Scudo. Saranno presenti poi l'Ovo Amuleto e il Amuleto, che ci aiuteranno ad ottenere uova con meno passi e i Pokémon cromatici con più facilità, e la cosa che salta subito all'occhio è un'icona di un Nintendo DS, che, da quello che scrive l'autore del post, servirebbe per ascoltare le host degli originali Diamante e Perla, un po' come accadeva in ArtGold e SoulSilver. Lo stesso Matt mostra anche le icone di tutti i Pokémon presenti nei remake, e come ci aspettavamo saranno presenti solo quelli del Pokédex di Sinnoh. Successivamente vengono mostrati i vari sfondi che si potranno utilizzare nei box dei PC. Scopriamo inoltre che la Global Trade Station presente a Jubilopoli ora diventa la Global Wonder Station, che ricoprirà il ruolo di scambi prodigiosi e non più quello di GTS, dato che molto probabilmente questa funzione sarà riservata a Pokémon Home. E per finire, l'utente Centrolix rivela che i Pokémon iniziali, quindi gli starter e i vari leggendari, si potranno ottenere in forma cromatica sin da subito, mentre per quanto riguarda i Pokémon Evento che ho citato prima, non si potranno ottenere nella loro versione cromatica. L'utente prosegue poi dichiarando che, anche se sono presenti gli strumenti per l'ottenimento di Archeus nei dati di gioco, non sono presenti però le varie host o i dati che ricolleghino a questo evento, quindi per il momento sembrerebbe che Archeus non sia catturabile, ma a mio modesto parere, essendo presente nel Pokédex, in qualche modo sarà ottenibile, magari tramite evento oppure trasferendolo su Pokémon Home. E niente ragazzi, queste erano le ultime novità che sono riuscito a ricavare dai vari post presenti su Twitter, se ci saranno aggiornamenti ovviamente ve lo farò sapere. Vi invito a lasciare un mi piace e un'iscrizione al canale per non perdervi le ultime novità, e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto!